L'Operazione, un'opera teatrale firmata a Stefano Reali che ha circa 30 anni di età ma è stata riportata per la prima volta a livello teatrale con la presenza di Nicola Svaporidis, Giorgio Gobbi e Antonio Catania. Una commedia molto particolare che lascia anche delle piccole note di Amaro in bocca ma soprattutto la possibilità di pensare a quella che è la sanità italiana oggi. Noi abbiamo incontrato due interpreti, vediamo che cosa ci hanno detto. Le prime impressioni di questa sera, io sono appena arrivato, quindi sono con sei ore di macchina alle spalle, un tantinello stanco con una grandissima voglia di andare a bere una birra prima di andare in scena per cercare di raccontare insieme ai miei illustrissimi colleghi di qui sopra Che non sono interpreti, come hai detto tu, sono interpretini. Antonio ti dirà la stessa cosa di me, per cui vai sul liscio. No, lo spettacolo sta andando molto bene, noi siamo contenti di riportarlo finalmente anche in Puglia perché devi sapere che ha 30 anni questo testo, è stato scritto nel lontano fine anni 80 e non è mai stato portato in giro per l'Italia. Nonostante sia stato venduto in tipo 28 paesi all'estero, in Italia non ha mai girato, è rimasto sempre a Roma. Quindi stiamo testando gli italiani nelle diverse latitudini, da nord a sud, ci stiamo facendo tutta la penisola per vedere come reagiscono e reagiscono tutti allo stesso modo. Si divertono, ma nonostante il testo abbia 32 anni, continua ad essere estremamente attuale. Senti, mi parli un po' del tuo personaggio. Il mio personaggio è un ingenuo, apparentemente molto ingenuo, che entra in questo reparto di ortopedia dove c'è invece il maestro Catania che sta lì da diversi anni e apparentemente sembra un degente, un ricoverato per una lesione ai legamenti della gamba destra. E il suo compagno a distanza non farà altro che torturarlo rispetto a quelle che sono le procedure mediche, ortopediche per sistemare appunto la gamma, quindi gli interventi, per cercare di mettergli paura. L'obiettivo è quello di farlo spaventare per farlo andare via, perché si dice che all'interno di questo reparto di ortopedia, di questo policlinico, si vendano i posti letto. Il resto non te lo posso raccontare perché farei spoiler, quindi ruinerei il gusto dello spettacolo e se vi dico alla fine che ci venite a fare, andrò giustamente, dite voi. E quindi vi lascio questa suspense per invitarvi a vedere come prosegue la storia. Avrà ragione il nostro degente, cioè Massimo Miglialini, il personaggio che interpreto io, o ha ragione il maestro Catania, che si chiama Luigi, in scena. Questo lo deciderete voi una volta che avrete visto lo spettacolo. Fino alla fine non si sa, non si capisce. Però è un personaggio che viene continuamente vessato e massacrato dal degente, dall'infermiere che è Giorgio Gobbi, piuttosto che dalla caposala che è Gabriella Silvestri, e dal medico, l'unico medico presente in scena, che è il nostro Marco Giustini. Allora, siamo con Antonio Catania. Io prima ho fatto l'intervista a Nicolás Vaporidi, ho detto a lui, uno degli interpreti, lui mi ha detto, no, io sono l'interprete degli altri, sono di contorno. Sì, così la penso anch'io, insomma. Per cui lei interprete gli altri e lui di contorno. In realtà è una commedia molto corale, ci ha molto scritto, una commedia scritta 30 anni fa, che ha avuto tanto successo nel mondo, perché è stata rappresentata in molti paesi. Ha vinto dei premi il testo, abbiamo fatto anche un film, io l'ho fatto con Mastandrea, e niente, adesso la stiamo portando in giro per l'Italia, buon successo ancora adesso. È comunque una commedia che, non dico lasciare la mare in bocca, ma fa molto pensare. Beh, insomma, parla un po' di, tocca tanti temi, insomma, è una commedia, quindi fa ridere sostanzialmente, poi c'è il tema della sanità, c'è il tema dell'amicizia, della solidarietà, i malati, e poi c'è un po' di giallo che così intriga, e quindi il pubblico viene sorpreso da questi colpi di scena. Lei ha fatto tanto cinema e sta facendo adesso teatro, che cos'è che le piace di più fare? Mi piace fare il cinema, ovviamente. Il cinema è più, se tu fai un bel film e sei protagonista, e ti danno tanti soldi, ecco che siamo, direi il cinema, no? Se invece fai un brutto film, non sei neanche protagonista e ti danno pochi soldi, ecco che non dici il cinema. Però il teatro è un'altra cosa, è una cosa di cui forse non si può fare a meno, perché comunque io sono nato col teatro e comunque trovo la mia dimensione più giusta nel rapporto col pubblico, non lo so, sono le solite cose che si dicono, però è la verità, insomma, quella cosa lì non te la può dare il cinema, dove spesso sei coinvolto in progetti meravigliosi, altre volte meno, a maggior ragione la televisione dove per trovare un progetto bello è molto più difficile. Lei prima ha parlato della parte cinematografica di questo lavoro, che dice sempre di Stefano Reali, in che cosa differisce il cinema da quella parte teatrale? Ma il teatro è tutto più asciutto, perché è tutto molto più sintetico, il cinema ha bisogno anche di allungare un po', quindi ci sono gli esterni, ci sono delle cose dette, raccontate, che invece lì si vedono, e quindi diciamo che la parte cinematografica è quella arricchita, ma anche di cose anche un po' aggiunte, mentre qui c'è tutto all'osso, quello che era, questo aggiava molto al testo. I vostri prossimi appuntamenti in Puglia, so che avete altre due serate? Sì, abbiamo altre tre serate, abbiamo San Severo, poi Cerignola e poi Nardò. Cioè qui ci sono altri tre appuntamenti con la Puglia. Con la Puglia, adorata Puglia, dove torna, io torno sempre molto volentieri, ho lasciato tanti bei ricordi, il Salento, insomma, fa parte ormai del nostro DNA. Cioè qui ci sono altri tre appuntamenti con la Puglia.